Il mercato della Salernitana viaggerà su di un doppio binario parallelo. Il club Granata infatti da un lato dovrà sfoltire la rosa piazzando almeno 15 dei calciatori che non rientrano nei piani tecnici. Dall'altro il DS De Santis dovrà rinforzare l'organico e provare a blindare i pezzi pregiati della passata stagione. Ederson partirà soltanto in caso di offerte irrenunciabili e quindi superiori ai 30 milioni di euro. Boinen sarà un pilastro al pari di Fazio e Radovanovic. Anche Mazzocchi è considerato incedibile ma sull'ex Venezia è forte il pressing di Torino e Monza. Quanto ai possibili nuovi acquisti la Salernitana sta provando a portare alla corte di Nicola il 19enne Felix protagonista con la maglia della Roma. Resta forte l'interesse per Cavani al quale è stata formulata una nuova proposta ma l'impressione è che la posizione del sudamericano sarà definita soltanto a metà mercato. Intanto lo sguardo della Salernitana resta vigile anche sulla riorganizzazione del settore giovanile. L'idea è di inserire nei quadri tecnici due vecchie glorie come Giovanni Pisano e Vittorio Tosto. Entrambi protagonisti domenica sera alla Rechi in occasione dei festeggiamenti per i 103 anni della Salernitana. Festa che tra l'altro è proseguita anche nelle ore successive. Il club rione Podestà di Ponte Cagnano-Faiano ieri sera ha ospitato alcune delle vecchie glorie che hanno fatto festa insieme a tanti bambini. Sabato sera invece erano stati soci del club Peppino Soghi a colorare di granata Baronissi regalando gadget e vessilli a quelle che potrebbero essere le future generazioni di tifosi della Salernitana.